Ecco la tele, qui si entra, a destra c'è la cittadinanza attiva, il corridoio, in fondo ci sarà la Guardia America, ecco Franza, ancora siamo, siamo appena entrati, quindi una prima postazione a sinistra, molto spoglia però, ecco una seconda postazione, eccola qui, una terza, una quarta, e qui dovremmo mettere una libreria, è finito, il locale è questo, il gabuzzino, la caldaia, poi le comandi, le due erbe carna sterne, vedremo, ma proviamo l'avventura, questa è la Mastro Macuccio, Dom, no, Dom Macuccio Sgromo, il vetro è già rotto, ecco, il bidone dell'immondizia, madonnina, chezza.